Siamo davanti a Renzetti ancora una volta a denunciare una vergogna, una vergogna di questo centrodestra che ha ben pensato in queste ore di mettere in campo il traslogo della dialisi da Renzetti di Lanciano all'ospedale di Atessa. Non si capisce bene quale sia la motivazione, addirittura si giustificano nella realizzazione del nuovo ospedale, un nuovo ospedale che è ancora in fase embrionale, che viene raccontato come ogni campagna elettorale da Marsiglio e Co, che viene annunciato come ogni campagna elettorale a Marsiglio e Co, l'ennesima pietra depositata rispetto al nulla cosmico che ha fatto questa maggioranza in cinque anni e che continuerà a fare. Non sono assolutamente interessati di quelle che sono le problematiche dei cittadini, ma sono sicuramente interessati a quello che è il loro status quo. È arrivato il momento di denunciare quotidianamente a tutte le persone presenti nei territori quello che non hanno fatto e quello che non faranno nei prossimi cinque anni. Grazie.